Benvenuti su Ultimissima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto ma per noi fondamentale. Grazie. Achille Costacurta è tornato a far parlare di sé sui social con un nuovo video, scatenando una nuova ondata di critiche. Qualche settimana fa, il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta era finito al centro delle polemiche a causa di alcune foto pubblicate su Instagram. Nelle storie, Achille aveva condiviso immagini di bustine contenenti una polvere rosa, mazzette di denaro e un passaporto, che sembravano alludere a comportamenti illeciti. Una delle foto mostrava una bustina con una sostanza non identificata accompagnata da una didascalia ambigua e controversa. Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi, facendo un chiaro riferimento alla droga. Dopo aver fatto pace con la madre e aver attirato l'attenzione per queste uscite discutibili, Achille è tornato sui social per mostrare il suo ultimo acquisto, una dentiera tempestata di diamanti. Il video, pubblicato su TikTok, mostra il giovane mentre scherza sul suo nuovo look dentale, dicendo, non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi. Il video ha rapidamente superato le 300.000 visualizzazioni, suscitando una serie di commenti critici. Alcuni utenti hanno definito il gesto, sfrontato, e suggerito che il giovane dovrebbe dedicarsi ad attività più costruttive, mentre altri hanno semplicemente espresso preoccupazione per il comportamento di Achille. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news. Ciao!